Ok, gente, ascoltate, è ora di fare l'annuale telefonata tortura alla prozia Ellen. Pronto? Ciao, zia Ellen, siamo Peter, Lois e tutta quanta la famiglia. E per augurarti il buon Natale... Ma una vicinilla di chi? Era solo per augurarti... Sei il caro? Hai ricevuto la nostra cartolina? Sì, stiamo facendo un pisolino. Ok, zitti tutti, aspettiamo che parli lei. Noi volevamo solo... Sei sempre lì, caro! Cacchio! Allora, come sta? Ma fatto il freddo, si è gelato lo stagno e anche una famiglia di procioni. Sì, vabbè, buon Natale! Papone, ci racconti il seguito di quella storia sul bambino Giasù? Ah, giusto. Allora, se ben ricordate, Maria e Giuseppe si stavano regando a Betlemme. Ah, guardala, mi ricordo quando era tutto deserto. Stavo pensando che quando nascerà il bambino potremo istruirlo noi, so contare da uno a nove. Sì, ehi, dimmi ancora una volta come ha fatto Dio a metterti incinta. Perché quando mi racconti tu com'è andata ha un senso. Ma quando lo dico ai ragazzi al lavoro ci trovano sempre da ridire. Allora, state andando a Betlemme, giusto? Io ci sono stata una volta a una festa di asini. Oddio, non potete immaginare il godimento! Oh, un messaggio! Ehi ragazzi, qui dice che un certo re dei re nascerà a Betlemme e che noi andremo a rendergli omaggio. Fammi vedere. Qui dice tre saggi magi o residenti? Non credo sia importante che siamo proprio noi. Neanch'io, voglia di andarci. Non vieni a trovarti tuo socio da domani? Tutti quanti a Betlemme! Intanto i tre saggi magi viaggiavano attraverso il deserto. Avete sentito che stanno tirando fuori altri quattro comandamenti? Roba che serve solo a interferire con i piccoli affari. Oh no, siamo rimasti senza acqua, dobbiamo fermarci da qualche parte. Guardate, il palazzo di re Erode, potremo procurarci dell'acqua. Mi annoio a morte. Quando arriva questa tv? Devo dire che ci troviamo un po' indietro. Scusi, siamo tre saggi magi che stanno facendo un lungo viaggio. Potremmo disturbarla per un po' d'acqua. Saggi e non avete una scorta d'acqua, eh? Allora, cosa vi porta in Giudea? Stiamo andando a Betlemme a trovare un bambino magico. Un bambino magico? Che fa? Trucchi con le carte? Coniglio nel cilindro? Si fa dare pugni da uno del pubblico? Mi piacerebbe prendere a pugni un bambino. Non puoi prendere a pugni questo bambino, è il Messia. Sì, lo chiamano persino il re dei re. Ah, ha già l'aria di un rompiscatole. Ah, che ne dite di questo? Io sono il re dei re dei re. Ah, nuovo nome l'ho detto io. Qualcuno si sente un tattino minacciato. Benvenuti al motel Shiksa. Non lasceremo la luce accesa per voi. Cos'è, lavoriamo per la compagnia elettrica? Sì, ce l'avrebbe per caso una stanza libera. Spiacente tutto esaurito. Cer è in città. Non credo troverete una sola stanza. Niente stanze. Giuseppe, come facciamo ora? Tranquilla, è tutto sotto controllo. Niente stanze, eh? Beh, forse ha una stanza per il mio buon amico pugno pieno di sabbia. Dove sono i soldi? Li ho spesi in sabbia. Mi dispiace, non posso aiutarvi. Ma signore, la prego. Mia moglie ha in grembo un bambino, sta per partorire. E io ho in grembo di burrito, sto per fare lo stesso. Spiacente, se non ve ne andate subito dovrò chiamare l'I-X-I-Y. Ok, eccoci qua. Fa piuttosto schifo, eh? Non posso credere che il mio bambino sarà il figlio di Dio. Che nome gli daremo? Beh, questa è tipo una stalla. Potremmo chiamarlo stallone. Sì, perché no? A me è sempre piaciuto Tristan. Oh, cacchia, Lem. Vuoi che sia lo zimmello di tutti? Lo crocificano con un nome del genere. Grazie di essere venuto senza preavviso, dottore. Oh, non deve ringraziarmi, sono onorato. Non capita tutti i giorni che Dio conceda suo figlio a una donna. Era mai successo prima? Sì, una volta, ma la donna beve durante la gravidanza e il bambino uscì danneggiato. Ah, sta uscendo! Oh, che dolore terribile! Odio lavorare la notte di Natale. Oh, ecco che esce! E avanti Cristo si trasforma in dopo Cristo. Come butta gente? Guardalo, è un miracolo! Ehi, se sei vergine, com'è che sono uscito liscio come una palla di cannone? Felicità! Sono venuto a vedere il re neonato, però non ho portato con me nessun regalo. E che cos'hai lì in mano? Il mio tamburo. Beh, allora gli hai portato un tamburo. Un gran bel regalo. Ma questo è tutto quello che ho. È quello che fa di me il piccolo tamburino. Sì, il pupo vuole il tamburo. Sì, vai! Ma che succede? Portate fuori il Cristo bambino, lo vogliamo! Uh-oh! Avrò anche una mamma vergine, ma io sono un figlio di buona donna! Pensateci voi! Ho dimenticato una cosa a palazzo! Pitiu, pitiu! E questa qui è la storia di Gesù. È stata favolosa, papone! Sì, posso aiutarvi? Salve, siamo forestieri e abbiamo l'auto in panna e mia moglie ha le doglie. Possiamo usare il telefono? Cosa? No! Peter, chi è? Una coppia di pidocchiosi che provano a intrufolarsi con la scusa di usare il telefono. Vi prego, dovete aiutarci! Perché è Natale, se no chiamavo la polizia, truffatori! E ora tu e la tua puttana! Fuori di qui!